La celiachia, malattia cronica ed autoimmune dell'intestino tenue, che in Italia colpisce circa 135.000 persone, è il tema di un'interrogazione proposta dal consigliere regionale Alessandro Singgetta. Il consigliere interroga il presidente della giunta regionale per conoscere se sia intenzione dell'esecutivo estendere il numero di esercizi commerciali autorizzati presso i quali poter acquistare alimenti privi di glutine tramite l'apposito buono per i celiaci. Singgetta ha chiesto anche quali iniziative si intendano mettere in atto per favorire la diagnosi precoce della malattia e quali sono gli interventi in materia di formazione dei medici di base. Nella stessa interrogazione il consigliere ha domandato se e quali interventi si intendano mettere in atto per migliorare l'educazione sanitaria sulla malattia celiaca. Chiesta anche l'intenzione del governo regionale sull'eventuale pubblicazione online della lista dei prodotti alimentari ritirati dal mercato che possono nuocere alla salute dei soggetti celiaci.